La mia passione è diventata la mia professione, diventare direttore d'orchestre di fiati o di banda è stata un'evoluzione naturale per me, prima come suonatore e poi come direttore. Da anni sono direttore della civica filarmonica di Mendrisio, della Stata Armonizio di Hörli Konzivach e della Musikgesellschaft Concordia di Gerking, ma la mia attività direttoriale mi ha portato in ogni angolo della Svizzera eppure all'estero. Un'altra parte importante è dedicata all'insegnamento ai giovani, l'insegnamento strumentale dove insegno strombone presso la Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana. L'ultima parte, ma non la meno importante, è quella di editore e arrangiatore per orchestra di fiati, assieme a Thomas Traxler, mio caro amico, abbiamo creato la Symphonic Works. La musica, la mia vita. La musica, la mia vita.